Oggi facendo un punto alla situazione verifichiamo che nella sua inderezza il protocollo non sta andando avanti. In percentuale, proprio rispetto all'accordo del 6 novembre del 2014, a Gela quanti cantieri sono partiti? Io non interverrei sui cantieri, ma farei una disamina nel protocollo perché noi abbiamo l'aspetto green, abbiamo l'aspetto upstream, l'aspetto delle bonifiche. Quindi se entro nei cantieri è come se fosse una parvenza che c'è un'attività. Io vorrei entrare invece sui tempi di realizzazione del protocollo stesso. Per quanto riguarda la green è passato un messaggio mediatico dove si dice che entro il 2018 ci sarà la green, ma non è così rispetto al protocollo perché nel protocollo c'era scritto che entro il 2017 dobbiamo avere la green. Aspettiamo un incontro a breve scadenza con l'azienda, un incontro tecnico per fare una verifica sulla green stesso. Per quanto riguarda il settore upstream ci sono le dolenti note, dovute al fatto che da un lato ci hanno proposto una rimodulazione del progetto per quanto riguarda Agro Cassiopea. Nella rimodulazione portano un slittamento dei tempi perché doveva partire entro il 2019 l'Agro Cassiopea e invece sarà entro il 2020. Quindi c'è un anno di slittamento, anche se loro dicono che anticipano ma non capisco che significa anticipare. Però c'è un dato negativo che emerge sull'upstream che è la produzione di petrolio rispetto a mesi addietro e si è ridotta di circa 6.000 barrile al giorno. Quindi siamo a 14.000 barrile al giorno rispetto ai 20.000. Questo ci fa preoccupare, significa che non sono stati fatti quegli investimenti che hanno permesso di aumentare la produzione di greggio e quindi anche di gas. E quindi sulla base di questo c'è un altro problema che emerge perché nell'upstream, in Enimed, hanno confluito altri 120 unità. Quindi significa che ci potremo trovare nei prossimi mesi con un problema di un costo del lavoro notevole e quindi sui bilanci antebrai incidere con problemi anche occupazionali nel proseguo. Questo per quanto riguarda l'upstream, in ultima analisi per quanto riguarda le bonifiche, dicono che è partita la bonifica dell'ISAF ma dobbiamo fare un incontro specifico per capire a che punto siamo e dove possiamo arrivare. Parlano tutti di green ma di un verde che ancora è una speranza per il prossimo futuro.